Questo video riguarda i migliori 3 antifurto casa senza fili smart. Il vincitore della qualità è l'Italian Alarm Futura. Kit antifurto futuristico con controllo totale da app Smart Life con connessione alla rete Wi-Fi domestica. Sfruttando la connessione internet di casa potrai ricevere notifiche push direttamente sul tuo smartphone. Con l'applicazione è possibile gestire completamente l'antifurto da qualunque parte del mondo. Dotato di morsettiera per eventuali sensori filari e contatto relè. Il kit antifurto è composto da 4 sensore movimento, 4 telecomando wireless, 6 sensore porta, una sirena wireless 120 dB, 1 mini sirena filare 110 dB. Tutte le batterie sono incluse. La sirena e tutti i sensori wireless sono già associati alla centrale e provvisti di batteria autonomia 18-24 mesi. È possibile utilizzarlo con scheda SIM GSM, con app Smart Life o entrambe. Effettua chiamate SMS in caso di allarme tramite scheda GSM. Inoltre tramite applicazione gratuita S-Home si utilizza il proprio smartphone per la gestione totale dell'impianto, armare, disarmare. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il PGST allarme wireless. Si tratta di un kit di allarme economicamente vantaggioso. Interfaccia di interazione uomo-computer. La barra di stato dell'interfaccia principale. Il riquadro di stato, la data e l'orologio vengono visualizzati in tempo reale e lo stato dell'host è molto chiaro. Antifurto casa Wi-Fi supporta GSM e GPRS Wi-Fi, SMS e inserimento e disinserimento vocale. Il centro app può essere controllato da remoto punto fino a 5 serie di chiamate di allarme preimpostate, 100 telecomandi, schede RFI e rilevatori wireless per apprendere e memorizzare le posizioni. Centralina domotica basato sulla progettazione del sistema operativo multitasking, ha un'eccellente esperienza di funzionamento dell'utente. Supporto SMS di armamento remoto e disarmare e impostazione dei parametri, supporto canale vocale arming e disarmare. Antifurto casa senza fili con batteria senza fili sensore di bassa tensione, funzione di allarme antismontaggio. Le porte e le finestre armate non sono chiuse per avviso. Il vincitore del premio è la G-SHOME Allarme Antifurto. Il sistema di allarme intelligente AgShome ha un sistema di allarme wireless completo che offre grandi vantaggi a un prezzo accessibile, tra cui una potente sirena da 120 decibel, 5 sensori per porte e finestre e un telecomando. L-Sistema di allarme AgShome 2N di gennaio semplifica la configurazione degli allarmi collegandolo a una stazione base, collegandosi al Wi-Fi tramite l'app Smart Life e posizionando il sensore nella posizione ideale. Funziona solo su rete 2.4G. Le reti 5G non sono supportate. Sirena da 120 dB per spaventare gli intrusi. Può anche essere inserito o disinserito utilizzando il telecomando senza rete Wi-Fi. La batteria di riserva di 8 ore protegge la tua casa in caso di interruzione di corrente. Scegli il kit di allarme AgShome adatto alle tue esigenze e aggiungi componenti e accessori aggiuntivi in qualsiasi momento. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento. Grazie a tutti.